carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi è 21 giugno c'è l'entrata ufficiale dell'estate e ringraziamo il signore anche perché una nuova stagione si apre davanti a noi e leggiamo insieme nel vangelo di marco al capitolo 10 i versi da 28 fino a 31 ispirato dallo spirito santo l'evangelista scrive pietro gli disse a gesù ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito e gesù rispose in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amore mio e per amore del vangelo il quale ora in questo tempo non ne riceva cento volte tanto case fratelli sorelle figli campi insieme a persecuzioni e nel secolo avvenire la vita eterna ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi saranno primi in questo passo potremmo fare diverse riflessioni ma vorrei soffermarmi su un aspetto secondo me interessante da considerare e cioè al fatto che noi delle volte consideriamo le scelte fatte per il signore come qualcosa di pesante e infatti le chiamiamo rinunzie e le copriamo e le compiamo con una venetura di tristezza cercando come pietro di far risaltare il nostro atto agli occhi del signore e delle persone intorno a noi come un qualcosa di particolarmente pesante e io credo che tutto questo sia sbagliato e questo perché in assoluto ma anche nelle singole individualità il signore non è debitore di nessuno anzi egli è il padre celeste che provvede alle necessità di quanti sperano in lui e quelle che in realtà noi chiamiamo rinunzie non sono tali ma sono soltanto qualcosa che ci apre la porta della benedizione e della ricompensa del nostro signore è un po come se un lavoratore andasse sul posto di lavoro e definisse rinunzie a quella giornata spesa nell'assolvere i propri compiti in realtà è soltanto qualcosa che alla fine rientra nei suoi doveri verso colui che provvede alle sue necessità tramite salario lo stipendio ora questo non significa naturalmente che noi acquistiamo le benedizioni di dio con il nostro impegno o con lo dare la nostra vita al signore ma significa soltanto che se dio ci ha talmente amato da dare il suo figlio per la nostra salvezza e ci ha liberati dal peso del peccato e ci ha dato la pace ci ha dato e ci dà ogni giorno la forza e provvede alle nostre necessità quale rinunzia è il dover mettere da parte le nostre tendenze carnali e peccaminose e quale rinunzia è il consacrare del tempo a colui che ha dato tutto se stesso per la nostra vita è un nulla è come una goccia nel mare e quindi anziché sventolare i quattro venti quello che facciamo sperando nell'approvazione degli uomini e nell'ammirazione di essi dovremmo più che altro considerarlo come qualcosa che è naturale ed è dovuta al nostro creatore che nel frattempo grazie al sacrificio di cristo e alla nostra accettazione di esso nella nostra vita è diventato anche il nostro padre celeste allora non parliamo più di rinunce non mettiamoci più o con gli occhi irrigati dalle lacrime perché stiamo facendo qualcosa per il signore e lo dobbiamo per forza considerare come un pesante fardello che dobbiamo portare consideriamolo come un motivo di gioia come un onore come un privilegio perché questo adesso è e non dimentichiamo mai la grande benedizione che noi riceviamo già su questa terra allora quando serviamo il signore e facciamo la sua volontà perché è proprio in questo che l'anima nostra trova riposo e proprio nel fare la volontà di dio che il nostro cuore si riempie di gioia e le nostre e il nostro vigore spirituale si fortifica di giorno in giorno e non solo questo e sarebbe già tanto ma il nostro vivere in cristo e per cristo è qualcosa che ci assicura vita eterna perché come abbiamo letto riceviamo su questa terra ma poi nell'eternità riceveremo appunto la vita eterna e quale cosa straordinaria sarà il vivere col signore e il camminare per le strade d'oro della gerusalemme celeste quale glorioso spettacolo sarà ammirare dio in tutta la sua bellezza in tutta la sua gloria quale motivo di grande gioia sarà poter essere insieme ai santi di ogni tempo e l'unirci al coro dei cherubini e dei serifini che cantano le lodi del nostro signore o fratelli e sorelle non è una rinunzia non è un fardello pesante è un motivo di grande gioia perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato per suo eterno di gloria e allora da oggi cari vogliamo considerare alla luce di questo verso ogni piccolo sacrificio che possiamo fare per servire il signore non come un motivo di dolore e di afflizione ma come un'occasione per ringraziare ancora di più il signore che ci ha reputati degni di poter fare qualcosa per la sua gloria e per l'edificazione della sua chiesa che dio ci accompagni ancora oggi dandoci i giusti sentimenti affinché in ogni cosa lo possiamo onorare e lo possiamo servire con la gioia che trabocca nei nostri cuori la pace del signore sia con tutti quanti noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti